di dino buzzati i topi voce di lorenzo pieri che ne è degli amici corio che sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna detta la doganella da tempo immemorabile ogni estate mi invitavano per qualche settimana quest'anno per la prima volta no giovanni mi ha scritto poche righe per scusarsi una lettera curiosa che allude in forma vaga a difficoltà o a dispiaceri familiari e che non spiega niente quanti giorni lieti ho vissuto in casa loro nella solitudine dei boschi dai vecchi ricordi oggi per la prima volta affiorano dei piccoli fatti che allora mi parvero banali o indifferenti e all'improvviso si rivelano per esempio da un'estate lontanissima parecchio prima della guerra era la seconda volta che andavo ospite dei corio torna a me la seguente scena mi ero già ritirato nella camera d'angolo al secondo piano che dava sul giardino anche gli anni successivi ho dormito sempre là e stavo andando a letto quando udì un piccolo rumore un grattamento alla base della porta andai ad aprire un minuscolo topo sgusciò tra le mie gambe attraversò la camera e andò a nascondersi sotto il cassettone correva in modo goffo avrei fatto in tempo benissimo a schiacciarlo ma era così grazioso e fragile per caso il mattino dopo ne parlai a giovanni ah sì fece lui distratto ogni tanto qualche topo gira per la casa era un sorcio piccolissimo non ho avuto neanche il coraggio di sì me lo immagino ma non ci fare caso cambiò argomento pareva che il mio discorso gli spiacesse l'anno dopo una sera si giocava a carte sarà stata a mezzanotte e mezzo dalla stanza vicina il salotto dove a quell'ora le luci erano spente giunse un ciac suono metallico come di una molla cos'è domando io non ho sentito niente fa giovanni evasivo tu elena hai sentito qualche cosa io no gli risponde la moglie facendosi un po rossa perché io dico mi sembrava che di là in salotto un rumore metallico notai un velo di imbarazzo bene tocca a me fare le carte neanche dieci minuti dopo un altro ciac dal corridoio questa volta e accompagnato da un sottile stridio come di bestia dimmi giovanni io chiedo avete messo delle trappole per topi che io sappia no vero elena sono state messe delle trappole lei che vi salta in mente per i pochi topi che ci sono passa un anno appena entro nella villa noto due gatti magnifici dotati di straordinaria animazione razza soriana muscolatura atletica pelo di seta come hanno i gatti che si nutrono di topi dico a giovanni ah dunque vi siete decisi finalmente chissà che spaventose scorpacciate fanno di topi qui non ci sarà penuria anzi fa lui solo di quando in quando se dovessero vivere solo di topi però li vedo belli grassi questi mici già stanno bene la faccia della salute non gli manca sai in cucina trovano ogni ben di dio passa un altro anno e come io arrivo in villa per le mie solite vacanze ecco che ricompaiono i due gatti ma non sembrano più quelli non vigorosi e alacri bensì cascanti smorti magri non guizzano più da una stanza all'altra celermente al contrario sempre tra i piedi dei padroni sono lenti privi di qualsiasi iniziativa io chiedo sono malati come mai così sparuti forse non hanno più topi da mangiare l'hai detto risponde giovanni corio vivamente sono i più stupidi gatti che abbia visto hanno messo il muso da quando in casa non esistono più topi neanche il seme ci è rimasto e soddisfatto fa una gran risata più tardi giorgio il figlio più grandicello mi chiama in disparte con aria di complotto sai il motivo qual è hanno paura chi ha paura e lui i gatti hanno paura papà non vuole mai che se ne parli è una cosa che gli dà fastidio ma è positivo che i gatti hanno paura paura di chi bravo dei topi in un anno da dieci che erano quelle bestiacce sono diventate cento e altro che i sorcettini di una volta sembrano delle tigri più grandi di una talpa il pelo ispido e di colore nero insomma i gatti non osano attaccarli e voi non fate niente ma qualcosa si dovrà pur fare ma il papà non si decide mai non capisco il perché ma è un argomento che è meglio non toccare lui diventa subito nervoso e l'anno dopo fin dalla prima notte un grande strepito sopra la mia camera come di gente che corresse patatrum patatrum eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno soltanto la inabitabile soffitta piena di mobili vecchi casse e simili accidenti che cavalleria mi dico devono essere ben grossi questi topi un tal rumore che stento ad addormentarmi il giorno dopo a tavola domando ma non prendete nessun provvedimento contro i topi in soffitta c'era la sarabanda questa notte vedo giovanni che si scurisce in volto i topi di che topi parli in casa grazie a dio non ce n'è più anche i suoi vecchi genitori insorgono ma che topi d'egitto ti sarai sognato caro mio eppure dico vi garantisco che c'era il 48 e non esagero in certi momenti ho visto il soffitto che tremava giovanni si è fatto pensieroso sai che cosa può essere non te ne ho mai parlato perché c'è chi si impressiona ma in questa casa ci sono degli spiriti anche io li sento spesso e certe notti hanno il demonio in corpo io rido non mi prenderai mica per un ragazzetto spero altro che spiriti quelli erano topi garantito topacci ratti pantegane e a proposito dove sono andati a finire i due famosi gatti li abbiamo dati via se vuoi sapere ma coi topi hai la fissazione possibile che tu non parli d'altro dopo tutto questa è una casa di campagna non puoi mica pretendere che io lo guardo sbalordito ma perché si arrabbia tanto lui di solito così gentile e mite più tardi è ancora giorgio il primo genito a farmi il quadro della situazione non credere a papà mi dice quelli che hai sentito erano proprio topi alle volte anche noi non riusciamo a prendere sonno tu li vedessi sono dei mostri sono neri come il carbone con delle setole che sembrano degli stecchi e i due gatti se vuoi sapere sono stati loro a farli fuori è successo di notte si dormiva già da un paio d'ore e dei terribili miagolì ci hanno svegliato in salotto c'era il putiferio allora siamo saltati giù dal letto ma dei gatti non si è trovata traccia solo dei ciuffi di pelo delle macchie di sangue qua e là ma non provvedete trappole veleni non capisco come tuo papà non si preoccupi come no il suo assillo è diventato ma anche lui adesso ha paura dice che è meglio non provocarli che sarebbe peggio dice che tanto non servirebbe a niente che ormai sono diventati troppi dice che l'unica sarebbe dar fuoco alla casa e poi sai cosa dice è ridicolo a pensarci dice che non conviene mettersi decisamente contro contro chi contro di loro i topi dice che un giorno quando saranno ancora di più potrebbero anche vendicarsi alle volte mi domando se papà non stia diventando un poco matto lo sai che una sera l'ho sorpreso mentre buttava una salsiccia giù in cantina il bocconcino per i cari animaletti li odia ma li teme e li vuol tenere buoni così per anni finché l'estate scorsa aspettai in vano che sopra la mia camera si scatenasse il solito tumulto silenzio finalmente una gran pace solo la voce dei grilli dal giardino al mattino sulle scale incontro giorgio complimenti gli dico mi sai dire come siete riusciti a fare piazza pulita questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta giorgio mi guarda con un sorriso incerto poi vieni vieni risponde vieni un po a vedere mi conduce in cantina là dove c'è una botola chiusa da un portello sono laggiù adesso mi sussurra da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto nella fogna per casa non ne girano che pochi sono qui sotto ascolta tacque e attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile un brusio un cupo fremito un rombo sordo come di materia inquieta e viva che fermenti e fra mezzo pure delle voci piccole grida acute fischi sussurri ma quanti sono chiesi con un brivido chissà milioni forse adesso guarda ma fa presto accese un fiammifero e sollevato il coperchio della botola lo lasciò cadere giù nel buco per un attimo io vidi in una specie di caverna un frenetico brulichio di forme nere accavallantisi in smaniosi vortici e c'era in quell'aido tumulto una potenza una vitalità infernale che nessuno avrebbe più fermato i topi vidi anche un luccicare di pupille migliaia e migliaia rivolte in su che mi fissavano cattive ma giorgio chiuse il coperchio con un tonfo e adesso perché giovanni ha scritto di non potere più invitarmi cosa è successo avrei la tentazione di fargli una visita pochi minuti basterebbero tanto per sapere ma confesso che non ne ho il coraggio da varie fonti mi sono giunte strane voci talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride ma io non rido dicono per esempio che i due vecchi genitori corio siano morti dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri glieli porti un uomo del paese lasciando il pacco al limite del bosco dicono che nella villa nessuno possa entrare che enormi topi l'abbiano occupata e che i corio ne siano gli schiavi un contadino che si è avvicinato ma non per molto perché sulla soglia della villa stava una dozzina di bestiacce in atteggiamento minaccioso dice di avere intravisto la signora elena corio la moglie del mio amico quella dolce amabile creatura era in cucina accanto al fuoco vestita come una pezzente e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano avidi di cibo sembrava stanchissima ed afflitta come scorse l'uomo che guardava gli fece con le mani un gesto sconsolato quasi volesse dire non datevi pensiero è troppo tardi per noi non ci sono più speranze